Una chiesa parrocchiale costruita nel mille, con alto campanile, una torre, due castelli, vecchie case, il ponte medievale di Echalod, il pittoresco santuario della Madonna delle Nevi, nascosto dai castagni nel vallone di Maccabee. Questa l'Arnad del passato. Oggi Arnad, nell'omonima piana della bassa Valle d'Aosta, è anche e soprattutto villeggiatura, arrampicata sportiva, buona tavola all'insegna del vino Valle d'Aosta Arnad, Montceauvet, doc e del prestigioso lardo aromatico. Nume tutelare del primo è la cooperativa agricola La Chiuva, che riunisce gli operatori del settore viticolo e dell'allevamento di sette comuni, oltre ad Arnad, Chalant-Saint-Victor, Champs-de-Pratz, Honne, Issogne, Montceauvet, Verré, allo scopo di valorizzare le risorse turistico-gastronomiche del territorio e di promuovere l'ammodernamento delle tecniche culturali. Quanto all'ardo, il riferimento è la Maison Bertolin, in frazione Chamblagnac, principale produttore che ha anche un punto vendita attrezzatissimo, in cui l'artigianato alimentare valdostano è rappresentato al meglio. Lardo di Arnad, ovviamente, ma anche per restare salumi, Boudin, Mocetta e varie altre carni essiccate, salate, miscelate con aromi naturali di montagna. Un giro d'orizzonte turistico da Arnad comprende almeno il castello di Sogne, sulla sponda destra della Dora, e una puntata nella valle di Chalant, poi da Yass, che sale verso il Monte Rosa. Nel castello di Sogne, maggiore esempio valdostano, di dimora signorile, tra gotico e rinascimento, spiccano la fontana del melograno nel cortile e gli affreschi nelle lunette del portico, con scene di vita quattrocentesca. Varcata poi la Dora, si passa il poderoso cubo di pietra del castello di Verré, fine del 1300, e seguendo il corso delle Vinson, si comincia a salire la valle di Chalant fino a Brusson, villeggiatura tra i prati con case montane di legno, e a Yass, comune sparso in una splendida conca dominata dalle vette e dagli acciai del Monte Rosa. Ha la testata di Champollou, centro sportivo di primo ordine, da cui si parte per Saint-Jacques e le escursioni al massiccio. La valle è disseminata di segni degli Chalant, signori feudali. In tavola regna la fontina dal peggio, con polenta concia e fonduta. Più avanti, sul versante opposto della valle della Dora, rispetto ad Arnard e Verré, dimensione turistica propria ha acquistato San de Prats, porta d'accesso al parco del Montavique.